buongiorno a tutti volume al massimo microfono acceso si parte oggi è venerdì 15 luglio sono 9 51 e dopo aver avuto ieri una bella discesa per la chiusura del nostro settimanale altro caso in cui nulla varia rispetto a ciò che succede nel mondo reale crisi di governo si noi avevamo già una vaga idea che dovesse iniziare a scendere il nostro settimo t-3 quando siamo andati in violazione di questo minimo ovvero alle 12 45 io non mi ricordo quando si sia votato alto ma non mi sembra che fosse fosse questa l'ora in ogni caso strada tranquillamente spienata per una discesa si è scesi e poi adesso si sta rimbalzando che cosa abbiamo fatto ieri nel premium dopo l'analisi diciamo non più mattutina ma quasi pomeridiana ho appunto segnalato le 12 51 che lo swing su mib era stato violato e che quindi si poteva o entrare direttamente con un chip short potuto aspettare un rimbalzo che cosa è successo messi i livelli eccetera 15 29 eravamo già in gain e bisognava decidere che cosa fare alle 15 e 29 quindi qua ok bisognava decidere se continuare in trailing ancora per qualche candela perché stava iniziando a fare dei movimenti ok che potevano innervosire in una giornata non serenissima come quella di ieri oppure arrivare fino alla 24esima barra al minimo e quindi abbiamo guadagnato eccoci qua qua arrivato però 22 e alla 23esima rimbalzato quindi quindi dobbiamo andare a capire se questo vuole essere un raccordo di grado t meno 3 tra che cosa un settimanale un settimanale in questo caso mettendo comunque anzi seguendo comunque come al solito in trailing avremo lo stesso fermato qua il 3 di l'ho fermato un pochino prima qua lo dico per correttezza quindi raccordo non raccordo la cosa importante è che siamo andati a violare questo minimo di partenza l'abbiamo fatto dopo 6 t meno 3 sopra questo minimo stesso e quindi potenzialmente abbiamo vincolato un mensile a ribasso un mensile ciclo che dura minimo 24 giorni e noi a quanto siamo 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 a 8 8 su 24 ecco questi sono i fatti quindi vogliamo parlare di quanto tempo potremmo continuare a scendere se questo dovesse rivelarsi un mensile già partito o qualcosa di più persino parliamo di 24 barre 8 agosto minimo situazione non bella anche perché qui ci si aspettava da una violazione di swing anche una partenza di un ciclo un po più alto ma non non ce l'abbiamo perché nella realtà dei fatti abbiamo soltanto un settimanale rialzista e non un bisettimanale e quindi la situazione è abbastanza grave d'accordo lo dico per sicurezza perché quando si arriva finalmente una chiusura di annuale che può essere finalmente stata fatta qua anzi che è stata fatta qui potenzialmente con la condizione necessaria e sufficiente dopo sarebbe bello vedere una ripartenza se invece arriva un raccordo in mezzo tra l'altro di grado corretto tra un annuale e un annuale quindi un mensile dopo aver violato uno swing interessante per una ripartenza ecco non è piacevole ma meglio saperlo prima che si può rischiare di continuare a sprofondare per tanti giorni giusto è un'informazione di valore che viene data oggi 15 luglio che andrà confermata è perché se andremo mai qui sopra a 21.838 cambia tutto ok completamente però ecco il rischio è che le notizie ci avvantaggino in questo mensile da da rischio di continuazione discesa si scende si sale si scende di più si sale rimbalzo del gatto morto ridiscesa si sale di nuovo discesa ancora più profonda quindi adesso molta attenzione perché se l'annuale già qua una condizione necessaria e sufficiente continuiamo ad andare giù può essere serenamente appunto un raccordo per quanto riguarda il MIB anzi scusate il DAX cosa dico il DAX invece serenissimo pulita proprio come come centratura qui è dove avevamo chiuso il nostro short perfetto sui minimi assoluti da qui di nuovo c'è stato un ribalzo siamo arrivati in violazione purtroppo in ventunesima barra di questo minimo e quindi non abbiamo preso questo short che sarebbe stato decisamente interessante qui abbiamo avuto un rimbalzo a questo punto sapete che è importante capire dove passano gli swing per la partenza di un nuovo ciclo a 4 giorni un t-1 oppure di un nuovo settimanale per capire se continueremo a salire per far partire appunto un nuovo settimanale e qui attenzione su DAX non ci siamo vincolati al ribasso eh per uno nulla ma questo minimo è rimasto in piedi eccolo qua quindi la situazione per ora lo ribadisco per ora è decisamente differente tra un indice e l'altro qui vedremo già cosa succederà con l'assalto alla media mobile a 50 periodi in rosso nella realtà dei fatti il nostro la nostra attenzione massima in questo momento dato che siamo arrivati oltre le 25 barre in realtà le 21 e se questo minimo verrà violato oppure no questo massimo scusate perché sto parlando di inverso questo massimo a 12.697 verrà violato pure no nel caso fosse violato magari dopo una discesa di un 5 o 6 candele sotto un minimo ecco la situazione si fa decisamente più cara ma ricordiamoci che è venerdì quindi statisticamente non conviene aprire trade nella parte pomeridiana perché ci sono dei riallinamenti a livello di volumi per gli istituzionali quindi diventa più rischioso aprire una posizione che peraltro se non si riesce a chiudere si porta fino a lunedì e lunedì se nel weekend è successo qualcosa di tragico o di meraviglioso e noi siamo short ecco diventa un grosso rischio vedo ancora alcuni che dicono di acquistare titoli piuttosto che asset alla fine della negoziazione continua quando tanto quanto ci sono dei volumi e quindi costa di più un HFT spingere in un senso in un altro il mercato non ha alcun senso e prendersi un rischio gigantesco andare a comprare un'azione un certificato un'opzione alla fine della giornata di venerdì che ci blocca per due giorni e se l'apertura ci viene contro lunedì può essere già un gap up o gap down e può essere disastrosa quindi fate attenzione a che cosa mi raccontano fuori da questo canale perché purtroppo ci sono troppe persone non preparate vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata arrivederci